Il Comitato per lo Sport di Sulmona torna a denunciare la situazione di degrado del campo sportivo Mezzetti. Il Comune con una determina dirigenziale dello scorso 7 agosto ha stabilito di affidare i lavori di manutenzione straordinaria alla ditta Riccardo Cianfaglione, ma i rappresentanti dello sport cittadino sono ugualmente preoccupati perché, dopo diversi incontri avuti sia con l'assessore allo sport che con il sindaco, quando manca poco all'inizio della stagione sportiva, il degrado non solo permane ma aumenta. A parlare per il Comitato sono Gino Ciampa, Mario Ciccarelli e Fabrizio Scelli che hanno espresso il proprio disappunto in una lettera inviata al sindaco Anna Maria Casini. Una vicenda che offende non solo gli sportivi di questa città ma particolarmente offende la memoria di Mezzetti e quanto si legge ancora nella missiva del Comitato per lo Sport di Sulmona che invita il primo cittadino a togliere la targa recante il nome di Gianfranco Mezzetti. Il nostro impegno, prosegue il Comitato, nel cercare una soluzione condivisa è stato ampiamente dimostrato. Abbiamo proposto soluzioni e personalmente ci si è messi a disposizione volontariamente in prima persona per lavori di manutenzione e pulizia dell'impianto ma a quanto pare ciò non è bastato. Ci è stato risposto, conclude il Comitato, che i progetti di riqualificazione e i relativi investimenti erano destinati per altri impianti e solo in parte residuale per il Mezzetti.